SafeGate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito. SafeGatePro.com Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo per questo sabato. Un flusso di aria atlantica continua a interessare il Mediterraneo, porterà ancora fenomeni sparsi al nord e sul lato tirrenico. In Abruzzo si prospetta un sabato complessivamente più stabile e soleggiato. Ci aspettiamo infatti cieli sereni su gran parte della regione. Qualche addensamento in occhio sull'Aquilano settentrionale e sul Terramano non ci saranno fenomeni annessi. Temperature in netto aumento, massime tra 16 e 20 gradi, minime tra 4 e 10 gradi, 20 deboli o moderati sud occidentali. Grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento.